Grave incidente nella mattinata di giovedì a Seont Eufemia, sopra Fognano, lungo la strada provinciale 302. Un ciclista ha perso il controllo della bici ed è caduto violentemente a terra lungo il rettilineo di via Rio Co intorno alle 7.30. I primi a prestare soccorso sono stati altri ciclisti che hanno lanciato l'allarme alla centrale operativa del 118. Sul posto è arrivata un'ambulanza e le li mediche. Le condizioni del ferito sono subito sembrate serie. Dopo aver ricevuto le prime cure, le operazioni si sono protrate per diverso tempo. Il ciclista è quindi stato caricato a bordo dell'elicottero, decollato poi alla volta dell'ospedale Bufalini di Cesena, diretto al centro specialistico traumatologico con il codice di massima urgenza. Ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato alla violenta caduta.